Nei tempi previsti il Comune di Teramo ha inviato al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture la relazione conclusiva sulla ricognizione effettuata dei più importanti ponti cittadini. 100 le infrastrutture da monitorare e 10 le priorità sulle quali intervenire a breve periodo. Le cifre dei fondi necessari variano dai 7 milioni per la manutenzione ordinaria e straordinaria ai 35 milioni per gli adeguamenti sismici. Intanto per Ponte San Gabriele di competenza ANAS sono stati già stanziati dalla società 9 milioni di euro. La buona notizia emersa dall'indagine tecnica è che ponti e viadotti comunali non presentano problemi di staticità. Difficilissimo secondo il sindaco di Teramo Gianguido Dalberto è stato però reperire i progetti definitivi dei ponti a causa di una disorganizzazione nello scambio di dati tra enti competenti che va assolutamente colmata. Sì ovviamente è uno studio preliminare che segue ai sopralluoghi che abbiamo fatto l'indomani purtroppo della tragedia di Genova ma che ci consente in primo luogo di rispondere nei tempi previsti alla richiesta del ministero che ha avviato questa fase di controllo. E ci consente soprattutto di porre le basi per un'anagrafe complessiva piena di ponti e viadotti del nostro territorio che ovviamente non si fermerà solo a ponti e viadotti ma sarà allargata a tutte le opere infrastrutturali soprattutto quelle strategiche per il nostro territorio. Purtroppo dopo la tragedia di Genova ad avviare questo importante studio e questa importante procedura per una ricognizione delle opere infrastrutturali del nostro territorio però ovviamente a questo punto va bene l'informazione, va bene la conoscenza, i dati, noi risponderemo nei tempi senza lamentarci però dobbiamo anche mettere a disposizione risorse che sono fondamentali per intervenire sul nostro territorio. Eccole dunque le dieci priorità presentate dal comune di Teramo al ministero delle infrastrutture, ponte San Francesco, ponte San Ferdinando, ponte sul torrente Messato, viadotto Cartecchio, ponte Cona, ponte Apporto, ponte Accatena con sostituzione anche del guado di Carapollo, viadotto De Gasperi, ponte sul fosse ceppato, muro via De Gasperi. Sono stati esaminati questi ponti sia dalla data di costruzione ai giorni nostri, ci è stato dato una scaletta di priorità breve, medio e a lungo tempo di interventi da effettuare su questi ponti. Un preventivo di spesa per aggiustare questi ponti l'avete già? Sì, l'abbiamo già, è decisamente consistente quindi confidiamo perché noi come comune non potremmo intervenire per quanto riguarda lo straordinario in questo momento, quindi aspetteremo i bandi e l'intervento da parte del ministero delle infrastrutture. Grazie a tutti.